Buonasera, vi ritrovate all'appuntamento con Il Fatto, torniamo a parlare di politica, torniamo a parlare dei nuovi assetti regionali dopo il voto ormai di un mese fa dell'avvio della dodicesima legislatura. Stiamo incontrando in questi giorni i consiglieri regionali eletti nelle varie circoscrizioni abruzzesi, ospite nei nostri studi stasera il consigliere di Fratelli d'Italia, la circoscrizione di Vescara, Leonardo D'Addazio. Buonasera. Buonasera, buonasera ai telespettatori. Lei ha iniziato la legislatura un po' in corsa, visto anche l'ottimo risultato di Fratelli d'Italia e quindi le posizioni che sono state acquisite anche da suoi predecessori diventati parlamentari entrato in consiglio regionale, un'ampia esperienza sindacale alle spalle e quindi possiamo parlare nel suo caso sostanzialmente di rielezione. Rielezione è riconferma della maggioranza di centrodestra della proposta politica di Marco Marsiglio. Ora che è passato quasi un mese, come legge lei un po' più a freddo il risultato elettorale abruzzese, anche quello molto buono di Fratelli d'Italia? Per quanto riguarda la mia rielezione la definirei tale anche perché ho avuto l'occasione di lavorare in consiglio 15 mesi dopo una candidatura nel 2019 definita anche da me stesso di servizio in quanto mi candidai all'ultimo minuto, però questa candidatura è stata utile perché nel momento in cui Guerino Test è diventato parlamentare ho avuto l'occasione di entrare in consiglio il 7 dicembre del 2022, poi a febbraio del 2023 sono diventato Presidente della Commissione Sanità e quindi ho lavorato soprattutto in questo settore. Io leggo ovviamente positivamente il risultato sia della coalizione di centrodestra, sia del risultato di Fratelli d'Italia, sia il mio risultato a livello individuale. Noi avevamo questi tre obiettivi, confermare il Presidente Marco Marsiglio che aveva lavorato così bene, anche perché le regioni più innovative, quelle che vanno meglio, tipo il Veneto o altre regioni, hanno bisogno di continuità, i cittadini abruzzesi hanno capito questo e hanno dato la conferma sul lavoro svolto dalla giunta di Marco Marsiglio e di tutto il Consiglio regionale. Avevamo il secondo obiettivo quello di far diventare per la prima volta in Consiglio regionale i Fratelli d'Italia il partito con più rappresentanti all'interno del Consiglio, abbiamo eletto otto consiglieri, due per provincia e questo è motivo ovviamente di soddisfazione, può essere sicuramente una filiera positiva perché avere sia la regione che l'Italia come Presidente del Consiglio Giorgia Miloni, dello stesso partito del nostro Presidente Marco Marsiglio aiuta a dialogare, infatti quando sono stato presente in Consiglio ho visto concretamente i risultati che abbiamo ottenuto accelerando su questioni molto importanti. A livello individuale dopo quell'esperienza di servizio ho fatto una candidatura vera, lavorando dal primo giorno in cui sono entrato in Consiglio, dal 7 dicembre del 2022, diciamo girando tutti i paesi perché ho fatto il giro dei paesi almeno 5 comuni al giorno tutti i giorni in questi 16 mesi e ho visto che la cittadinanza ha risposto, soprattutto ovviamente nelle aree interne dove ho raccolto la maggior parte del mio consenso, la maggior parte del consenso che ho raccolto, l'86% è riferibile alle aree interne della provincia di Pescara ed è per me motivo di soddisfazione anche perché è un'elezione storica, lo voglio sottolineare perché nel mio paese appena non c'è stato mai un consigliere regionale eletto in prima battuta, abbiamo avuto occasioni magari in corsa, in precedenza e quindi ovviamente questo mi inorgoglisce ma nello stesso tempo mi carica di responsabilità perché è ovvio che la cittadinanza vestina ma anche quella della Val Pescara si aspettano molto dalla mia presenza ma questo equivale anche ovviamente per tutta la regione Abruzzo perché non possiamo limitarci ad avere un'azione politica solo nel collegio in cui siamo stati eletti quindi in provincia di Pescara ma in tutta la regione, è fondamentale che i consiglieri regionali abbiano una visione completa della regione e che siano attivi in tutte le province e non evitare magari campanilismi che molte volte in consiglio negli ultimi tempi soprattutto ci sono stati quindi io spero che ci sia una fattiva collaborazione anche con la minoranza perché comunque sia anche negli ultimi tempi ci sono state anche azioni sinergiche con loro in alcune occasioni hanno avuto dei risultati positivi e abbiamo approvato anche leggi importanti con questa collaborazione perché dico sempre che un risultato ottenuto non è un risultato ottenuto per una fetta di cittadini ma si rispecchia su tutta la popolazione abruzzese sia di chi ha votato il centrodestra sia di chi ha votato il centrosinistra e anche di chi purtroppo che rappresenta il partito più grande della regione cioè quella che invece non si è recata alle urne noi dobbiamo cercare di avvicinare questa fetta di popolazione a interessarsi di politica Allora Dardazio la legislatura che inizia proprio dopo domani prendo spunto proprio da una parte della sua risposta potrebbe essere anche quella che porterà ad una nuova legge elettorale un cambiamento di prospettiva come proposto dal presidente Marsilio già da tempo e l'ho chiesto anche a tutti coloro che sono stati ospiti di questa trasmissione in questi giorni potrebbe essere questa davvero l'occasione soprattutto nei primi mesi della legislatura perché poi ci si avvicina troppo alle elezioni successivi insomma l'occasione per una discussione franca ma anche un cambiamento della legge elettorale Ma guardi io sono sinceramente in linea con la proposta del presidente Marco Marsilio ma non perché sono di Fratelli d'Italia ma perché come dicevo anticipatamente credo che il consigliere regionale debba essere espressione di tutta la regione non solo di una provincia è ovvio che il lavoro sarà più difficile perché soprattutto nei mesi della campagna elettorale dove si vanno a toccare tutti i comuni di una provincia e girare per tutta la regione sarebbe più difficoltoso ma è giusto misurarsi in tutta la totalità della regione Abruzzo quindi favorevolissimo a questo favorevole anche al fatto di doverlo fare nei primi mesi della legislatura così le persone che hanno l'ambizione di candidarsi al prossimo consiglio regionale e anche i consiglieri uscenti hanno anche la possibilità e la capacità di crescere nelle altre province perché sarebbe impensabile farlo negli ultimi mesi anche perché poi l'abbiamo visto l'ultima volta ci sono state delle resistenze che invece magari a inizio legislatura queste non sarebbero Proprio parlando della sua storia ho accennato anche al suo impegno sindacale le chiedo, non posso fare diversamente se ha delle ambizioni particolari rispetto a quello che sarà l'assetto della nuova governanza regionale che si sta definendo proprio in queste ore alla vigilia del primo consiglio cosa piacerebbe fare a Leonardo D'Addazio che ha già fatto appunto il Presidente della Commissione Sanità che non è un ruolo facile perché lì passa gran parte del bilancio della regione scelte importanti, ha seguito il mondo del lavoro su cosa lei si rende un po' più disponibile e pensa di avere le competenze adatte per essere utili essere utile alla legislazione regionale? Allora, la Presidenza della Commissione Sanità non si occupa solo di sanità si occupa anche di lavoro, di formazione, sicurezza sociale, sport, cultura quindi è una commissione che si occupa, come diceva lei di molto del bilancio regionale circa il 70% delle leggi regionali passano dalla quinta commissione è stato per me un onore presiederla perché effettivamente è una commissione molto importante ambizioni ne ho, per il momento le tengo per me però dal mio punto di vista ho già parlato con il partito più che altro per mettermi a disposizione per qualsiasi ruolo loro pensano che io sia in grado di svolgere è ovvio che ho delle competenze maturate nel tempo perché non solo sindacalista ma io ci tengo sempre a dirlo che la mia esperienza lavorativa è un po' diversa rispetto a quella che hanno avuto gli altri politici ho fatto due anni il cameriere, cinque anni il bracciale agricolo e 23 anni l'operaio conosco benissimo il mondo del lavoro poi con il sindacato ho avuto modo di seguire in particolare alcuni settori energia, chimica e soprattutto moda che è in una fase di rilancio è ovvio che il mondo del lavoro è un mondo che mi affascina dove io penso di avere quelle competenze magari anche diverse da altri avendolo vissuto in prima persona infatti nel settore moda mi piace ricordare una di quelle leggi che ho fatto come penne città della sartoria artigianale per anche attirare imprenditori che volessero confezionare abiti di alta moda facendo capire che l'area vestina in generale ha delle competenze, delle eccellenze formidabili in questo campo e le migliori che ci sono in Italia anche io oserei dire nel mondo e quindi per confezionare un abito di alta moda l'invito è di venire nella regione Abruzzo e insidiarsi per fare un prodotto di qualità Il tempo corre, abbiamo soltanto 4 minuti e mezzo e il tempo della politica corre tantissimo da Dazio perché già siamo in campagna elettorale per le amministrative io su questo voglio sentirla perché in provincia di Pescara ci saranno Pescara, Montesilvano ma anche Città Sant'Angelo altri comuni che sono anche più vicini alla sua zona elettorale di riferimento C'è stato un risultato sulle regionali indicativo di una prevalenza generale del centro-destra ma anche di un centro-sinistra in particolare del PD piuttosto vitale che battaglia sarà quella dei primi di giugno? Io faccio una premessa la premessa secondo me è obbligatoria che le amministrative sono diverse dalle regionali così come sono diverse dalle politiche perché sulle amministrative conta molto il candidato e i vari candidati perché poi spostano l'ago della bilancia così come in parte succede con le regionali soprattutto nei comuni più piccoli dove abbiamo visto facendo un'analisi del voto dove avevamo candidati anche in Fratelli d'Italia presenti nel territorio è ovvio che nella percentuale si è alzata faccio l'esempio su me stesso sul comune di Penne siamo arrivati al 32,6% come siamo arrivati a percentuali altissime per dire nel comune di Scafa dove avevamo comunque candidati che potevano spostare l'ago della bilancia sulle amministrative soprattutto nei comuni più piccoli quindi conta il candidato questo succede anche a Pescara perché abbiamo visto che c'erano tanti amministratori consiglieri in carica assessori in carica che sono scesi in campo e questo ha fatto sì che sia un risultato diverso rispetto all'indicazione ideologica magari che ci può stare o del voto di opinione perché la performance per esempio di Blasioli che prende 5 mila voti su Pescara non può essere solo una componente diciamo legata al PD ma anche il lavoro magari svolto dal consigliere uscente quindi oggi io invece vedo una situazione per esempio su Pescara dove il centrodestra punta a vincere al primo turno mentre le altre due coalizioni i due candidati sindaci puntano ad arrivare al ballottaggio quindi le condizioni sono diverse io sono convinto che faremo un ottimo risultato su tutti i comuni chiamati al voto e ci potremmo confermare sia a Pescara sia a Montesilvano che a Città Sant'Angelo che sono i comuni più grandi una piccola parentesi anche sui comuni a me più vicini come Farente e Montebello si sta cercando di fare un lavoro per portare dei risultati importanti su questi comuni e spero che venga riconosciuto anche a livello amministrativo con la vittoria dei candidati di centrodestra quando sarà poi il momento in cui ci sarà l'ufficialità dei candidati saremo anche più chiari sull'indicazione che diamo come Fratelli d'Italia Bene, grazie a Leonardo D'Addazio consigliere legionale di Fratelli d'Italia buon lavoro per la dodicesima legislatura che inizia dopodomani non ci saranno sorprese nonostante tutte queste voci insomma solite fibrillazioni pregiunta come si dice lei è ottimista nei tempi brevi ma io sono ottimista io sono convinto che domani sera e per mercoledì saremo pronti a varare la giunta a eleggere il Presidente del Consiglio e quindi è una coalizione che insieme dal 1994 quindi credo che si troverà la soluzione confido nel Presidente Marco Marsiglio e confido anche nei coordinatori regionali di tutti i partiti che compongono la maggioranza molto più facile di alcune trattative sindacali alle quali lei ha partecipato ma sicuramente nelle trattative sindacali ci sono argomenti diciamo difficili spinosi da incontrare perché in mezzo c'è la vita dei lavoratori la vita delle famiglie molte volte si parla di perdita di posti di lavoro e quindi diciamo che la situazione è molto diversa Bene, grazie, grazie D'Addazio grazie ai nostri telespettatori arrivederci a domani con una nuova puntata del Fatto grazie a tutti